Che cosa sono i Vespri siciliani? Siamo a Bologna nella casa di Giuseppe Carducci il Museo del Risorgimento ed è qui che il 19 aprile al Teatro Comunale i Vespri siciliani di Giuseppe Verdi andranno in scena. Per Leonardo Sciascia i Vespri rappresentano il fatto più importante dell'Europa e del Mediterraneo del secolo tredicesimo perché sono il grande mito rivoluzionario, il grande mito dell'insorgenza dei popoli. Molti secoli dopo nella Milano Risorgimentale Giuseppe Verdi si troverà accanto ad Alessandro Manzoni, a Francesco Hayez a raccontare i Vespri, la risurrezione dell'insorgenza dei popoli, quel viva Verdi, viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia, scritto nelle vie e nelle piazze, che sarà uno dei tanti racconti che faremo al Teatro Manzoni il 13 aprile dove vi aspettiamo.